In Italpina abbiamo creato bambini bellissimi, che stanno anche migliorando meglio. Da l'inizio l'Italpina ha scelto sul reale che non serve l'environmento. La sostenibilità è una responsabilità per tutti, non solo per i sviluppatori, ma anche per i proprietari di unità. La sostenibilità è composta da tre diverse aree. Sostenibilità architettuale, che non cercano di armare l'environmento. Sostenibilità economica e sostenibilità sociale. In Italpina abbiamo scelto sui sociali, ambientali e sostenibilità finanziari. Vogliamo promuovere la interazione sociale tra gli occupanti dei nostri bambini. Abbiamo scelto sui risultati del consumo di potenza e del consumo di acqua. Un'altra delle strategie che usiamo per rendere i nostri bambini verde è che aumentiamo la ventilazione naturale per la creazione dei quartieri. Ogni unità ha una cross-ventilazione. Abbiamo anche creato scelto nella fascia per ridurre la illuminazione di sun direttamente durante la giornata del giorno. Abbiamo anche promuovere la riduzione di consumo di acqua per la creazione di acqua e la riciclazione di acqua. Abbiamo sviluppato i nostri bambini che priorizzano la well-being e il costo. Grazie a tutti. Grazie a tutti.